Buongiorno, io sono una di quelle. Allora io sono stata abbandonata ai giardini, poi l'ho raccontato a lei. Poi c'era un appartamento che si affittava qui e nel mio palazzo eravamo a 200 metri. E con la scusa che doveva vedere questo appartamento voleva prendere il numero, no? Erano due, signore, ma giovani. E allora quando siamo stati al portone ho detto prendete il numero. Invece loro dice una, ah no, no, quell'amora, devo andare al bagno, devo andare al bagno, bisogna che venga al bagno. E così io, stupida, 75 anni ci avevo, e allora le ho fatte accompagnare in casa, ma mezzogiorno un quarto, era così. E uno andava al bagno, uno invece è stato vicino a me, siccome era caldo il mese di giugno, avevamo fatte le scale, perché c'ho le scale, e dice bisogna che prenda un po' d'acqua e zucchero perché deve rimettere. Io sempre, con la stupidità, che poi mi vergognavo pure... Che poi è generosità, il cuore lo contano sulla generosità, hai capito, questa è una cosa... Io non volevo andare neanche ai carabinieri, però dopo, signor Giorgio, io, perché mi hanno dato da bere questa roba, e dopo io c'avevo una poltroncina, mi sono messa a sede su quella poltroncina, non mi ricordo più niente dopo da lì, da quando ho bevuto quell'acqua. Perché l'hanno, praticamente, l'hanno addormentata con qualcosa messa dentro l'acqua, praticamente. Sì, tre giorni e due notti ho dormito. Per fortuna, perché io sto sola, è venuta mia figlia, no? Perché doveva portarmi, ma io non sapevo che veniva. E mi ha trovato sulla poltrona, così credeva che io ero morta, che mi ero preso un itus e qualche cosa. Invece queste mi avevano dato qualche cosa, no? Con la scusa. Poi lei non aveva fatto caso a niente, perché siccome mi ha visto così sulla poltrona, si è preoccupata di me. Invece dopo ha visto il disastro, che erano entrate queste, e mi hanno portato via tutto. Soprattutto l'oro, i soldi non erano pochi, 40 euro, ma loro me l'hanno portato via tutto. Ma a momenti morivo, però adesso non era mia figlia. Sì. Dunque, vede che caso è brutto. Grazie signora, infatti me l'aveva raccontata, sta storia è terribile. Eh, lo ricorda? È terribile. Sì, sì. Grazie. Questa è una testimonianza di quelle molto importanti. Vi ringrazio e scusate. Da allora guarda che ancora tremo, tremo. Buona giornata.